ciao a tutti benvenuti siamo in compagnia di massimo crippa responsabile giochi e accessori xbox one allora massimo vediamo velocemente quali sono le novità di xbox one ciao ciao a tutti xbox one esce il 22 di novembre quindi manca ormai pochissimo al lancio le novità sono molte partiamo innanzitutto da line up di gioco perché la prima cosa che interessa un giocatore abbiamo 20 giochi al lancio disponibili con molte esclusive tra cui forza motorsport rise the rising 3 king instinct quindi tanti giochi con cui divertirsi per questo natale poi abbiamo un comparto per il live molto importante per noi xbox live che permette non solo di giocare contro altre persone nel mondo ma permette di anche di avere tutta una parte di intrattenimento musica video e una serie di funzionalità che integreranno l'utilizzo del gioco tramite 300 mila server che saranno disponibili dal lancio poi se vuoi entriamo in particolare su questo adesso andiamo andiamo a vedere precisamente la console abbiamo qua xbox one vediamo velocemente come è fatta da parte la forma esteriore vediamo le varie porte di cui dispone xbox one ingresso uscita blu ray tasto accensione spegnimento e tasto espulsione blu ray tasto di sincronizzazione del controller che però non serve per maggior parte delle volte perché si usa il kinect per controllare controller come abbiamo provato prima prima porta usb 3.0 posteriormente abbiamo alimentazione e cdmi in scusate e cdmi out che è un 1.4 e supporta anche 4k uscita ottica per collegare il sintoplificatore quello che volete o cuffie quello che volete e cdmi in per poter collegare setto box tv satellitare quello che volete poter visualizzare la parte intrattenimento sulla sulla stessa xbox one due port usb 3.0 con connessione per il kinect uscita all'infrarosso per poter controllare il desktop quei setto box che avevamo a monte e presa di rete benissimo abbiamo qua anche il controller ok ecco vediamo le le novità insomma anche del controller che è il risultato di quanti designer ci raccontavate ci sono stati fatti più di 200 studi su questo controller 40 aggiornamenti sono stati messi rispetto ai controlli xbox 360 è molto più leggero è più leggero è più sottile i joystick hanno una leggera zigrinatura sulla superficie per poter essere per non poter scivolare col pollice la la forza necessario per spostare il joystick è diminuita del 20 per cento quindi non ci si stanca mentre si gioca la dead zone quindi lo spostamento minimo necessario per far muovere il giocatore è praticamente zero quindi appena iniziata a spostare il joystick il giocatore si muove non c'è più una la bombatura qua sotto per la batteria ma è all'interno del controller stesso c'è una micro usb sopra il controller che mi permette di collegare il controller e ricaricare se acquistato per in charge la batteria all'interno o disabilitare il wireless e controllare direttamente la macchina o giocatore attraverso il controller c'è un sensore all'infrarosso che il kinect riconosce in modo tale che il giocatore l'xbox one sa chi è che sta usando il controller e quindi se io lo passo a te lui passerà il player 1 fondamentalmente alle varie persone perché ricordiamoci che xbox one ha un kinect all'interno della scatola che estende le funzionalità di xbox one e quindi tutti i sviluppatori sapranno che chi se devono sviluppare un gioco per xbox one avranno a disposizione a disposizione una serie di sensori sotto il televisore che sono telecamera 1080p 4 microfoni che permettono di togliere rumori di fondo e dare comandi vocali o interagire con lo gioco stesso tre laser l'infrarosso che scansionano la stanza dal kinect a quattro metri e mezzo di profondità riconoscono sei persone contemporaneamente riconosce se la persona ha l'occhio sinistro l'occhio destro chiuso se stai sorridendo se stai guardando la console riconosce 29 punti dello scheletro riconosce l'orientamento della del corpo in modo tale che può magari dare l'effetto alla palla mettendo assieme l'ottico l'infrarosso dal colore della pelle capisce il battito cardiaco della persona quindi ideale per giochi di fitness però anche per giochi magari un po più hardcore gamer dove io se voglio far spaventare o coinvolgere di più l'utente so anche il suo battito cardiaco e quindi ci raccontavi che diversamente dal passato dove il kinect era un accessorio quindi si poteva andare a sviluppare ad aggiungere qualcosa o anche diversamente dai giochi sviluppati solo per essere utilizzati con kinect ora essendo uno standard gli sviluppatori sviluppano già con in mente il fatto che c'è il quel il kinect e quindi non solo joypad ma anche altri sistemi di comando e possono arricchire i giochi con nuove funzioni che non è solo l'interazione appunto con il joypad perché ricordiamoci che il kinect siccome capisce la profondità della persona che sta davanti alla console oltre a questi due joystick c'è un terzo joystick che è proprio dovuto al kinect quindi io se mi muovo nello spazio lui lo sa e posso integrare questa funzionalità all'interno del gioco quindi se sto giocando un gioco in prima persona magari sono coinvolto voglio vedere che cosa c'è dietro il muro non so se mi è capitato di fare così per muovermi e vedere cosa c'è dietro lo spigolo ecco lo sviluppatore avrà a disposizione questo movimento da integrare in un giochi futuro